ciao a tutti allenatori e benefattori di youtube io sono cicciarecocchi98 ed eccoci in un nuovo video di fortnite grand cross 7 deadly sins allora adesso io vi dico la verità ho già pullato una volta su di lei è stato un pull tremendo però quindi inutile alla fine l'ho anche tagliato fuori perché diceva schifo però calcolate che non ho troppo culo se lo dovessi trovare subito perché giustamente primo non lo fa non ci spenderò troppe gemme quindi vediamo boh se la troviamo bene se no pazienza esatto di solito il secondo se non la trova il secondo non la trovo più magari arrivo fino a prendere i tre pendant e via ma noi lo sappiamo che è questo di solito il pull decisivo ma mi sa che non la trovo mi sa che non la trovo non è non è la giornata amici non è la giornata quando cicciarecocchi98 non la trova il secondo pull è proprio che è un disastro completamente un disastro proprio che non so neanche cosa dire per questo pull guarda che roba guarda che schifo e ci ho speso un sacco di gemme una gemma ci ho speso dai io farei un ultimo pull e basta no va bene magari ce ne spendiamo un pochino su allora oddio mi sa che c'è mi sa che c'è l'animazione di escanor perché c'è il cielo che è tutto col tramonto non lo so boh c'è il cielo che è tutto col tramonto non è l'animazione di escanor di solito va beh c'è sicuro una ssr questo è sicuro poi non so se c'è escanor no non c'è escanor ok ok però l'ho battuto una ssr ce l'ho forse era quella garantita al terzo pull era quella garantita ti immagini che che disastro no no mi pare che avanti aiuto vediamo chi ho trovato no amico sai chi ho trovato no ho trovato death pierce death pierce oh lei mi serviva elisabetto crossa mi serviva proprio vabbè tanto quanto minimo una ssr mi serviva perché mi serve il coin perché devo comprare il coso rosso l'idmello rosso quello lì quella roba quella robetta vabbè tanto una ssr di estrema quali qualità stavo diceva qualità estrema qualità ricompensa passo avanti lealtà reclamabile e chi se ne fotte io faccio un altro pull io arrivo a 600 secchi se non lo trovo pazienza non ne spendo fino di più dai cioè mi sembra anche una fesseria se devo dirvi la verità ma c'è di nuovo il cielo come prima però stavolta mi sa che non non l'ho trovata mi sa che stavolta non l'ho trovata ma dai ma il cielo era così però quando il cielo è bello limpido ah no invece l'ho sconfitto che cazzo ci succede che cazzo ne so una ssr ah è la prima tra l'altro trovato gerico vabbè può sempre essere utile per potenziare la ultima oh dio santo ho trovato zan e crudeli ruin cavaliere sacro zan e crudeli ruin cavaliere sacro adesso un altro no basta kill thunder uh bello vine nines mi serviva vine nines so che è triste come cosa da dire oh neneim ragazzi mi sta facendo vedere la copertina del video è favolosa 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 copertina del video di ieri perché giustamente sarà di ieri no non ditemi che sono pazzo perché questo video verrà programmato dopo quindi per me sarà di ieri per voi sarà di uno di domani migliore allora non so cosa ho detto io farei un ultimo un ultimo pull alla fine po' di ssr me le sono portate a casa quindi mi va bene mi va bene sinceramente vediamo un po vediamo un po vediamo un po vediamo un po allora ha fatto gli occhietti ma abbiamo capito che gli occhiettini cioè ah no invece un'altra ssr vabbè non è male no infatti vabbè ho fatto due pull di merda però tutto il resto erano ssr quindi buono anche così eh mi va bene anche così se devo dirla tutta anche se non trovo la tipa che è carina la tipa però o nella vita non è che si può volere tutto eh cioè bisogna ridare anche ora è la prima tra l'altro ho trovato cosa com'è che si chiama elbram elbram rosso non ce l'avevo è carino elbram cosa ne pensi amico non lo sapremo mai il bel elbram rosso non è male mi mancava vai nei nines mi serviva devo poterciare la ulti però ma ne serviva me ne bastava uno non due dai su non essere così gentile gioco ne bastava uno caspiterina oh è il mitico griamor il mio ecco questo questo mi piace questo mi piace questo mi piace perché effettivamente non ce l'avevo ah però mi sa che quello lì era del della ssr garantita quindi a dir la verità la dovevo trovare per forza esatto potrei fare altri due pull a dir la verità perché poi c'ho quella lì a uno oppure me la prendo garantita continuo fino a pigliarmela garantita non saprei non saprei non saprei intanto io continuo quasi quasi continuo perché se poi c'ho quella lì ad una gemma sto punto anche se mi trovo delle ssr mi fa bene se anche non dovessi trovare la tipa col culozzo allora quando c'è il cielo così di solito è una bella è una bella cosa però mi ha sconfitto non è una bella cosa questa infatti mi sa che mi sa che non ho trovato nulla eh no mi ha sconfitto ma proprio male eeeh la miseriaccia che disastro e che pull sei? sono arrivato al secondo pull da una gemma ah ok allora dovrebbe essere il set ma o mi fermo qua o arrivo a prenderla garantita tu cosa consiglio? prendo garantita prendo garantita tanto le gemme ce le ho quindi posso anche permettermi che è arrivato fino a qua a sto punto si se no avresti proprio buttato le gemme sa che mi ha sconfitto mi ha sconfitto di nuovo ma c'era il cielo che era carino peccato il cielo carino non aiuta sempre nella vita ragazzi mettetevelo in testa questo pull fa veramente cagare sono tutte sono tutte rare tutte raracce di merda questa è una SSR perché c'è il cielo con tutte le comete di solito è una SSR infatti beh vediamo tanto anche se la dovessi trovare a sto punto io continuo quindi spero magari di trovare un altro personaggio che non ho a sto punto anche se la scritta era dorata no sì quindi sarà una SSR un po' schifosa magari un King Scorreggione io ormai dico sempre quando è una SSR di merda è King Scorreggione mi dispiace povero King Scorreggione così tanto è vero fa proprio cagare oh Escanor ho trovato Escan me lo posso potenziare la seconda volta questo è figo figo mi piace questa vedi è una SSR che mi gusta me gusta me gusta cazzo potenziare la seconda volta la ulti di Escanor diventa cattivo eh lo faccio diventare molto cattivo Escanor ma veramente che proprio quando colpisce eh Arden cavaliere sacro passo 8 quindi abbiamo l'ultimo pass e poi ce la danno garantita e dai ennamosi dai sono abbastanza soddisfatto un po' di SSR me le sono prese perché ne avevo ne avevo bisogno ha fatto gli occhietti ma non c'è nessun altro segno è invece un'altra SSR e ma sai che cosa tutta botta di una quindi buono ni ma buono ni eh amico ma dai amico non senza poi si ma io tutti quelli che ho trovato li spendo per potenziare le ulti adesso quindi una SSR poi ho trovato un Elbram quella però era la ricompensa passo quindi non vale più di tanto poi vediamo che ho trovato vediamo che ho trovato dai se trovo un altro Esca non me lo ha potenziato la terza volta non sarebbe neanche male come idea madonna sotto chiunque eccola eccola no che schifo non l'avevo ancora trovato ma volevo evitare Hendrickson volevo evitare di trovarla sinceramente pazienza pazienza amici non è neanche un coin è proprio buttato lì dai siamo arrivati a 470 gem me ne sono buttate un po' per questa cosa speriamo che ne valga la pena è l'ultimo l'ultimo quella con la SSR garantita e adesso è un gioco non prendo gem quindi devo per forza sono abbastanza obbligato ecco allora allora di per sé il pool fa schifo però c'ho la SSR garantita almeno così mi dicono ma sto pool fa veramente caccare è l'ultimo ma fa caccare però a Lione ragazzi è sempre a Lione posso dirvelo posso dirvelo a Lione è sempre a Lione oh mel 2 shimo ottimo eccola qua trovata in un modo o nell'altro alla fine ce la siamo recuperata adesso devo prendermi tra l'altro tutti i premi di questo passo tra l'altro mi fanno anche comodo per i vari potenziamenti perché mi servivano pendant e un po' di robette vediamo cosa ci regala allora ci regala l'hai trovata tu? io l'ho trovata al quinto eh dai amico non sei stato male no una volta ti ho battuto mi hai battuto ma io l'ho comunque posseduto alla fine mi sono trovato un bel botto la misera ti regala 10 10 pietre del risveglio così ce ne ho un botto di incudini quanti te ne dà 100 però avevo bisogno di materiale quindi ne è valsa la pena ragazzi io vi dico semplicemente che niente ho trovato la tipa sicuramente Simo vi avrà già esposto di cosa stiamo parlando è questa tipa qua e non l'ho neanche vista ancora però però sembra molto carina molto carina indubbiamente sarà questa immagino riduce la perforazione di tutti i nemici del valore della resistenza dell'eroe è proprio anti Lilia si e niente poi è un bel culo quindi sono contento sono contento niente ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video e questa era la tipa dai meno male che questa volta non è stato un video di due minuti perché c'è no un video di due minuti montato in due ore solo per il finale ciao amici ci sentiamo in una prossima vita ciao e amici ciao